Mario Di Ventura, prima di parlare della partita di domenica, molto importante vorrei parlare di quella di domenica scorsa perché è arrivato un pareggio con un tuo bellissimo gol, quanto sei contento del gol ma anche di aver regalato il pareggio in una partita importante? Di domenica sono riuscito a raggiungere questo gol che cercavo, più che altro per un obiettivo mio personale di dimostrare il mio apporto qui a Civitavecchia per me stesso ma anche per la società e i tifosi ho piena felicità nel senso personale ma ho molto rammarico a livello collettivo perché comunque se anche abbiamo incontrato un'ottima squadra che è il Cimini possiamo recriminare qualcosa al primo tempo in quanto le occasioni prodotte potevano portarci a un risultato diverso invece abbiamo chiuso il parziale sull'1-1 e quando chiudi il parziale così la partita è sempre viva Parliamo però della partita contro l'Ereton-Monterotondo in casa, che cosa ti aspetti? Loro stanno facendo un campionato simile al vostro, che partita ti aspetti? Beh sicuramente sarà una partita dai migliai riflettori, bisognerà seguirla, assisterla perché sarà una di quelle poche partite che vale la pena vedere, sicuramente noi cercheremo di affrontare quest'ottima squadra nel nostro modo classico dove noi vorremmo sicuramente arrivare a tre punti, insomma non è che il nome della squadra ci comporta cambiamenti sicuramente staremo con i piatti a terra in quanto sappiamo che è una squadra molto preparata, è una squadra che punta al vertice Sei contento di quello che sta facendo la squadra, ma anche di quello che stai facendo tu per la squadra? Guarda, sono molto contento perché ho trovato un gruppo di ragazzi veramente ottimo e i ragazzi giovani stanno crescendo, stanno migliorando e il progetto di questa società era appunto questo creare un gruppo solido e conforme in tutti i suoi aspetti, Under Over, dove non si vede la differenza e cerchiamo di crescere tutti insieme, il grande può imparare dal giovane come il giovane può imparare dal grande quindi è soddisfatto in pieno di questa stagione